Ci sono due sardi nella lista degli otto latitanti più ricercati in Italia. Graziano Mesina, scomparso da Orgosolo lo scorso 2 luglio, e Attilio Cubeddu, il bandito di Arzana, in fuga da 24 anni. Mauro Scano. L'ultima evasione, la ventiduesima della sua vita, è stata la meno spettacolare. Questa volta, semplicemente, Graziano Mesina non si è fatto trovare in casa quando i carabinieri sono andati a prenderlo per riportarlo in carcere, dove lo aspettava una condanna a 30 anni. Nessun travestimento da poliziotto, nessuna sparatoria, niente salti da treni in corsa, eppure da sette mesi, Mesina, alla soglia degli 80 anni, tiene sotto scacco le forze dell'ordine. C'è chi dice che sia all'estero, forse in Corsica, ma gli stessi carabinieri non escludono che si trovi ancora nei dintorni di Orgosolo, protetto da una rete di connivenze. Per il Ministero dell'Interno fa parte della lista dei super ricercati italiani, otto imprendibili latitanti, tra cui figura anche Attilio Cubeddu, il sequestratore di Arzana, alla macchia dal 97 dopo una fuga da Badecarros. Il più cattivo di tutti lo definì Giuseppe Soffiantini, di cui fu il carceriere per otto mesi. Lo hanno cercato dappertutto, dall'Ogliastra al Sud America, persino i servizi segreti, senza successo, tanto da spingere a pensare che sia già morto da tempo. Grazie a tutti.